il vantaggio di frequentare una scuola è il fatto che il numero degli allievi la la struttura ecco la l'importanza della struttura ti dà delle possibilità che la lezione privata non ti darà mai a me piace proprio come è stata realizzata la fonderia io l'ho vista quando ancora era un mucchio di macerie e vederla diventare diciamo col passare delle settimane quello che è oggi è una grande soddisfazione una cosa mi piace ripeto molto come è stata fatta come è stata realizzata proprio la struttura una delle cose per esempio che adoro di questo posto il fatto che ha un grande spazio dove potersi esibire che è una cosa che molte scuole non hanno le caratteristiche architettoniche di questo luogo che non era una scuola di musica fortunatamente ci hanno permesso di avere un auditorium un bel posto dove fare tantissime cose proprio perché la fonderia in effetti fa un sacco di cose una delle cose importanti per un insegnante fondamentale è quella di capire chi hai di fronte ogni allievo è un po una un'avventura un mondo a sé io dico sempre che un insegnante può fare molti più danni di quanto può fare bene a qualcuno e quindi è importantissimo ascoltare gli allievi e capire come spingerli nella nella direzione giusta ciao a tutti ci vediamo una fonderia ciao a tutti